ciao oggi voglio condividere con voi la ricetta dei miei totani con i piselli ho rosolato per circa 10 minuti mezza cipolla uno spicchio d'aglio e del prezzemolo tritato ho aggiunto poi 400 grammi di totani ho aggiustato di sale e ho fatto insaporire per altri 10 minuti ho aggiunto poi 400 grammi di piselli nel mio caso surgelati e 400 grammi di polpa di pomodoro e ho proseguito la cottura per altri 20 minuti a fuoco dolce ricetta semplice e veloce ma vi assicuro buonissima fatemi sapere se la provate anche voi ciao